Il mio segno resterà su questo mondo per sempre. Il re di Eraclion, Iperione, ha dichiarato guerra a tutta l'umanità. Se qualcuno di voi condizionerà le faccende umane, la punizione sarà inclemente. Il solo essere umano che possa guidarli contro Iperione è Deseo. Forse gli dèi saranno al tuo fianco, ma la tua sofferenza è appena all'inizio. A coloro cui è dato molto, molto viene richiesto. Oggi abbiamo un'occasione che mai più avremo. Oggi combattiamo per l'onore! Per il vostro futuro! Per i vostri figli! Per la vostra mortalità! Gli dèi hanno scelto bene. Gli dèi hanno scelto bene.